Il 25 gennaio la Chiesa celebra e ricorda la conversione di San Paolo. Sappiamo chi era Saulo di Tarso prima dalla caduta di cavallo e prima di sentire le parole di Gesù. Sono quel Gesù che tu perseguiti. Appunto Saulo di Tarso era un persecutore, uno che andava alla ricerca dei cristiani per metterli in prigione e ucciderli. Paolo, convertito, diventa apostolo delle genti perché a piedi, con pochi mezzi, gira quello che in quel tempo veniva definito il mondo, cioè tutto il bacino del Mediterraneo. E Paolo, il cui nome significa piccolo, si sentirà sempre piccolo dinanzi alla grandezza di Dio, ma anche dinanzi alla grandezza del male da Lui operato. Vogliamo leggere il Vangelo di oggi e dare anche una parola in più. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dal Vangelo secondo Marco, capitolo 16, versetti 15-18. In quel tempo Gesù apparve agli undici e disse loro Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi sono i segni che accompagneranno quelli che credono. Paolo è uno di quei apostoli che si aggiungerà poi al numero dei chiamati, da Gesù che davvero vivrà questo mandato. La missione di annunciare il Vangelo a tutte le genti. Ho una considerazione personale. Per evangelizzare non servono grandi apparati, non servono grandi strategie. È vero, ci serviamo di tanti mezzi, come io mi sto servendo di questo mezzo. Però la prima cosa fondamentale che serve è la fede dell'evangelizzatore. È la fede di chi parla. È la fede di chi va a portare la parola del Signore. Senza fede, quel seme dato è sterile. Senza fede, la missione è fredda. E allora, ecco, imitiamo gli apostoli, imitiamo i discepoli, imitiamo i santi e ricordiamoci che tutti dobbiamo e possiamo essere evangelizzatori. Perché quando la grazia di Dio incontra il cuore dell'uomo, quella grazia lo trasforma. Quella grazia lo cambia. Quella grazia lo rinnova. E se il Signore ha incontrato noi e ci ha cambiato, perché attraverso di noi non può incontrare qualcun altro? Ricordiamoci anche attraverso chi il Signore è arrivato da noi. Buon cammino a tutti e buona missione.